Musica 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 Ci siete? Sì, sto facendo... Pronti? Non sarà per niente fastidioso questo battito E moribuange le nostre jumbo amici Ciao amici Oh shhh Ci ha abbandonato Eccolo qui Oggi finalmente siamo tornati con Sofia Land Cristian Grillo che ha messo un po' di panzetta Non è vero? Che non l'ha mai levata Andre, Giulio non l'ha mai levata E Andre Tutto a posto Giulio Oggi abbiamo gli sticky points Sticky points Non so se avete visto il video sul canale di Sofi Sono praticamente delle calze Degli aggeggini che servono le ginastiche per tenere i piedi uniti Ah già, grazie per averci votato Ah già Io prevedo già E oggi li teniamo super bellezze per farti un esercizio Anche perchè ogni Giulio vanno con i nostri outfit Esatto Guardate tutti gli outfit E rosso rosso E poco e poco Oggi saremo due squadre Io e Giulio contro Sofia e Andre Quindi Sofandre e Sabrulio Siamo Sofandre questo video Abbiamo vinto Ma Ma Siccome diciamo che per i maschi sarà un po' più Diciamo sono svantaggiati Perché Potranno nelle cinque challenge Scegliere un bonus Che è il bonus Christian Grillo Che vabbè lui è un ginnasta quindi Speravo facendo C'era oggi con la ginnasta Oh my god Non sono quasi sicuro di vogliono chiamare Sofì Perchè il tuo fidanzato hai il tuo body? Perchè l'ho fatta nella sua taglia apposta No no è proprio il tuo È proprio il suo Quindi pronti con le nostre cinque challenge Votate nei commenti quale team è il migliore tra Sofandre e Sabrulio Andiamo Grazie ancora Sabrulio Allora il primo esercizio L'avrete visto forse in un video con Sasha È la capovolta a due Ve lo facciamo vedere io e Sofia insieme Così i maschi capiscono se usare il jolly o no Ma poi lo facciamo io e Giulio insieme? Allora Bisogna fare una striscia di capovolte a due Spostati Giulio Sì Questi qua Con ostacolo Bisogna prendere le capiglie Sono le capovolte di scimmie E fare così Noi siamo bravissimi Giulio guarda bene E Wow Capito Per tutta la striscia Ah solo due? No per tutta la striscia Almeno tre facciamo Ma dobbiamo fare io e Giulio quindi? No Chi inizia? Lei fa la simpatica no? Ride Ci prende in giro Ma poi a una certa si troverà lei sotto con me sopra E mi devo lanciare E non si troverà più Ridi ridi Ti ho dato il cappellino raga Wow No la testa qua No lui la fa al contrario lui Ok Draiati Prendimi le caviglie Scusa Giulio un commento a caldo Non sono mai stato così vicino a una ragazza Vita mia Dammi piezza Si Oh my god Stai attaccato alle mie caviglie? Si Stai pronto? Andiamo Dai Gli sticchi si sono attaccati ai miei capelli L'avevo detto dito Vai ce la facciamo Aspetta che Togli gli sticchi Solo quello si attacca L'altro no non ti preoccupare L'altro puoi tenerelo tranquillo Devi attaccarti bene Pronto Jesus Vai che ce la stavamo per fare eh Ma dove? Ti ho visto volare ad una certa Pronto? Attaccati C'è una Vai vai Qualche problema Sabri? Le tue idee? Il mio piercing in petto Mi ha tirato un calcio Ciao Non ti ho dato un calcio Sei tu che avevi il controllo delle mie caviglie Esatto Noi adoriamo i tuoi video Sabri Grazie Non sai come sei della simpatica prima? Noi l'abbiamo fatto però L'abbiamo Ci abbiamo provato No vabbè Non ha fatto no Io e Andrea abbiamo già un vantaggio qui quindi Io vorrei Io vorrei Il sangue filo Ma veramente dobbiamo farlo Andrea io ho perso un orecchio Mi siete scappato comunque Cri hai fatto bene Tocca a voi No lei è ginasta No se la rompo No no non la rompi Dai che io sono piena di sangue Vai allora Io ho già visto che lui Ha fatto un capriola E' vero Io sono un capriolo Infatti siete avvantaggiati Secondo me deve iniziare lui Vai Allora salta bene Perché salta bene Devi tenere bene le caviglie Devi mettere la testa Può andare Fai tranquilla Io in mia vita precedente Oltre ad essere farfalla Ero un ginnasta Vai fai vedere Ah pure Basta che salti fortissimo E metti tutto nella testa Guarda la pancia non parti male Guarda la pancia non parti male Vai Io ho paura per tutti Oh buona la prima eh Vai Tre dovete farne eh Io non voglio guardare No una No tre Sabri Tre era la regola Ne hai fatto a me Infatti noi abbiamo perso Vai Non caccia di paura Dai Scusi hai fatto i paura Ready 3 2 1 go Oddio mio Bravo No Incredissimo Cosa ridi che tu non sei neanche riuscito ad alzarti Sei morto Si è andato Tu e i tuoi video di m***a Ok la prima challenge è stata fatta quindi tenete bene a mente per il risultato Grazie per il mio voto Abbiamo valito tutti quanti Seconda challenge andiamo entrambe Guarda che capelli c'ha Perché Giulio vabbè Seconda challenge Non avevo io le gambe in mano ce le aveva lei Il tuo coso mi si è attaccato i capelli Anatomia ce l'ho non è che lo posso togliere il malleo lo so perché non ti dà Un po' più facile di prima Più facile ora che sono qui Ci dobbiamo fare il gatto sulla travi Si mettono le ginocchia I ginocchi E si deve camminare come fanno i gatti I gatti lo fanno senza le zampe davanti Almeno 5 passi Non lo so 4 5 6 Almeno 5 Prego Giulio sei della tua squadra Vai Giulio Tu pensa Io ho il ginocchio Bravo 1 Silicato a capo se tocchi se Ti scusò Dove'm preservare la mia歡迎 Questo gatto mi ha mai molto In un po' più Vai Micio Micio vieni Micio Micio CONDO Ma sono passati i millimetri No, non mi spingi, non mi spingi. Ti sto tenendo. Dai, il solletico, segno dal sedere. Vai, appoggiati pure me, amico, vai, mi fai il solletico, mi fai il solletico, dai, dai, segno dal sedere, sabbi dal sedere. Au, au, no, 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 mi fai il mio sedere. Questa copia è un po' fallimentare, mi sa, eh. Con Andre. Il mio collega non fa niente. Mi sto lamentando per ora. Però siamo simpatici, tocca a voi. Vai, Sofì. Prende punti in più se faccio una cosa ancora più bella. Vai. Prende punti in più. Le prende cosa fai? Uno, due, ma non vale. No, lei è un punto in meno perché non ha fatto la regola. No, ha fatto una cosa ancora più bella. Votate me, votate per Andre. Sofà, Andre. Andre, perché ti stai tenendo? Ma non è più bella questa trave? Ma ha vinto lei la trave? Vai. Allora, attenzione. Bravo. Mi piace l'ingresso. Bravo. Però perché il tuo compare si impegna più del mio? Guarda le mani. Due, tre, quattro, guarda bene dove la può. Ne manca uno. E cinque. Bravi. Giulio, non ti stai impegnando abbastanza. Mi stai impegnando al massimo, sto dando i duecento perché quella trave lì è più larga. Devi provarci tantissimo, eh. Andiamo in parallela, Giulio. In parallela. Andiamo in parallela. Sì, dopo si sai da qua e si va a toccare quella grande. Se riesci a pendersi meglio. Con i denti? Va bene toccare, quindi. No, mi si sono attaccati i piedi, Tri. Eh. Si mette un piede qua. Sì. Cioè, Andre, in teoria, anche tu e Giulio, non lo so. Poi di qua. Ok, sì. Giulio, tocca a te. Vai, Giulio. Evoco Christian, ma è impossibile per me. Puoi usare la tecnica di evocazione per piacere? Grazie. Ti è evocato, Tri. Vai. Forse posso vincere una challenge. Sì. Sai cosa vuol dire questo? Che poi io lo devo fare? Eh sì. Vai, Tri. Vai a vedere. Tri, cade all'indietro. Vai. Oh. Aia, aia. Vai, baby, vai, baby. Bravo. Vabbè, ma lui ci arriva, ma non è giusto. Non è neanche saltato. Anche l'uscita. Buonissimo, grazie. Mi sembra giusto. Ho vinto una challenge. Vai. Guarda già l'ingresso. Via. Mamma mia, come l'ho insegnato? Come il mio, uguale. Ok. Ok. Non puoi evocare Christian. Vedi il lato positivo. Evoco l'ernia. Evoco l'ernia. Il lato positivo è che lo puoi evocare dopo. Maledetto. Vai. Andre, importante è chi tu pensi. Ma come ci salgo io qui? Ascoltami bene. Io ti ascolto. Vedi le mie parole. Sì. Devi pensare. Che ridi. Ti rompo io. Grazie, vai. Dimmi la magnesia. Quale era la tua cosa preferita nel mondo? Da dormire. Ok. Dormire qua. Devi mettere il naso di qua. Io so. Ma no, potete dirlo prima. Dammi un piede. Però devi andare lì poi. Intendo solo per mettere il piede. Bravo! No, è picatissimo. No, no, va bene. Adesso vai l'Andre. Andrè, bravo, bravo, bravo. Non sei stato ticolante. Non era lo stagio. Secondo me ce l'ha qua. Andre, bravissimo. No, mi devo fare male per te. Dai, Andre. Ma che cosa si fa? Ce la fai. Bravissimo. Ok. L'ho preso. Liscio. Tremato come una foglia d'autore. Bravo. Nato di qua. Sono convinta che ce la fai. Ma c'è? Non ho detto. Ma ci deve andare il corpo. Gris, tienigli le spalle. C'è il sonno. Fai un'unica con un ninja. Rinuncio. Ok, dai. Va bene, allora devi salire su quello alto direttamente. Devi riuscire a salire su quello alto. Cosa vuol dire su? Come prima. Te lo devi tenere qua. Ma è ancora. Puoi aiutarti da lì. Saprino non ha l'idea dell'anatomia, mi sa. Ma non ce la faccio comunque. Sì, provaci. Ma che cacchieridi tu? Tu sei perfido e malvado. Ho un'idea. Andre lo so come fai. Col ginocchio. Così, guarda. Ma tu che è andato a mia dell'essere umano in mente? Col ginocchio, Andre. Non ce la fa neanche lei, guarda. Come fai così? Andre, perfetto. Ma era così facile. Lo faccio anche io quasi quasi. Ti do un'altra opzione, Andre. La volta che ti appendi. Eh già. Ma perché con i piedi? Inserisci. Adria, inserisci quei piedi. Se vuoi io mi fermo al titolo su. Sì, va bene. Prova a tenere sui piedi. Se con i piedi tocca l'ostaggio sei a posto. Tocca su con i piedi. Con l'ostaggio. Ma chi ce li ha sti addominali? Tu. Andre. 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 Bravo, ci hai provato, va bene. Bravo, Andre. Io ho una cosa qui. Bravo. Bravo. Andiamo al prossimo. Prossimo esercizio, l'abbiamo visto, io l'ho provato, non ce l'ho mai fatta, è il verme. Sofì lo fa vedere. Abbiamo già vinto, ho capito. Ok, ce l'ha fatto Sofì, tocca a te. Cacchio. Cacchio. Cristian! Evochi Cristian per il verme? Cristian! Mi ha fatto spaccare tutto. Sei stato evocato, Chris. Sono un po' come. Questo lo fai per te. Mi serviva un verme. Il verme. So che sai fare il verme. Bravo. Ponte, oppa! Aia! Senti, c'è fumo! Ponte, oppa! Guarda, la mia pelle non c'è più! Devi capire! Non lo voglio più fare! Banchino, vatti! Vado, eh! Ah, la mia pelle! Eh no, non hai strisciato i piedi. Non l'abbiamo strisciato, è male meglio. Ho paura, io non ho! Ho fatto! Raga, non fatelo a casa, non fate più ginnastica. Non fate il verme. Mi ha fatto qualcosa di più semplice. Aiuto, eh! Allora, puoi si chiude! Ma se vuoi che aiutare! Mettere questo qua, 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 qua. Allora, immagina che lì c'è sonno. Sì, pucia il naso, mettici il naso. Vai col naso sul tappeto. Scavo caro! Vai! E... Questa esplode, ragazzi! E... Vai, Giulio! Oh! Buttati a pesce morto! T'ho paura! Ma no! Di riappoggiarti! Giulio, tu pensa che la palla ha più paura di te! Vai! 3, 2, 1... Vai! Ma una! Ma riappoggiarti! Mi ha fatto tanto male, Chris! Ah! Chris! Addio, Chris! Sì! Vedo che posso al tempo, ma non miglioro. Dovrei farne tre. Vabbè! Io glielo passo buono. Sì, sì, sì. È che sei impaurito con te. L'ultimo, ragazzi, andiamo a fare una roba maschile. Finalmente. Cionno. No, andiamo. Ciao Giulio, un commento caldo su questa tua impresa? Perfecchio. Giulio! Vieni che andiamo a divertirci. Allora, siccome abbiamo un problema di stazza... Ho deciso che l'ultimo altezzo... L'ultimo altezzo. L'ultimo altezzo è il volteggio. Si parte da qui, si corre veloce qua. Con questa velocità? Sì, anche più forte. Si arriva qua e si fa un'esibizione che si vuole. La morte del cigno va bene? Sì, perché è grazie a questo che voi sarete votati. Sabri Gimer abbiamo. Con il numero 12, la balena di Monza. Oh mio Dio, è troppo veloce. Cioè, questa sarebbe la tua esibizione? Ti dico solo che non riesci neanche a metterti fuori dalla telecamera, la mente faceva schifo. La balena spiaggiata di Monza ha finito la sua esibizione. Votate Solfrina, Sabruglio, quello che volete, perché siamo i migliori e abbiamo i piedi. Ti continua a mettere fuori fuoco, ti duro, ti odio. E a tutti quelli che votano forse li seguono stesso. Giulio, tocca a te. Vai Giulio. Tu pensi che lì c'è il sonno. Il sonno eterno. Esatto, probabilmente sì. Oh Giulio, il trucco è correre. Cos'è sto correre? Il trucco è correre velocissimo. Sì. Giulio. Via. Anna, la mia presentazione è la mia. Sì, Giulio, via. Ma che schifo. Fai il saluto. Puoi fare un saluto, per piacere? Ciao. Ciao. Ciao e alla prossima. Oh mio, è in posizione. È in posizione. Vai Giulio. 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 Mamma mia. Giulio. Giulio. Perché devo votarci? Perché ho visto la morte, stavo volando qua. Sofia Land. Votateci perché io e Andre lavoriamo molto bene come squadra e ci diamo tanto incoraggiamento e siamo super felici. Abbiamo il fuoco dentro. Se avete il fuoco dentro. No, no, ma la faccio con la videocamera, tranquillo. No, no. Siamo super felici. Non vediamo l'ora in questo video che spacca ogni osso del mio corpo. Vai Andre. Andrea Parizella, figlio di Gino e Rosa. Un nipote di Berger. Figlio di Gino e Rosa in pedana. E vai. Oh my God. Ma non l'hai ne... Perché devono votarti? Perché non sento più il ginocchio sinistro. Ok, Giulio. Che problema. Ma meno male che non t'ho... Ho visto un pulmine passato in quello avanti. I miei concorrenti, anche Christian, prendi il posto di Andrea che sta registrando. Siamo stati fortissimi. Commentate qui sotto con Sofandre o So... Giul... Guarda, non sai neanche il nome. Dai, vabbè. Sofandre, basta. O Giul... Giuliettina. Vabbè, quello. E iscrivetevi anche come video volete fare poi con Sasha e Christian. Ma facciamo una gara di mangiate, no? Ma qua la vinco io lo stesso. Non andiamo a farla, però. È interessante. E' interessante.